In video molto Matteo Salvini che ha una idea su tutto e che dice la sua su tutto. Esattamente il modello tipico italiano, tutti i ct della nazionale. Ma penso invece che la politica fatta così tutto sommato abbia fatto tanti danni. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante fidarsi della scienza e di chi ha competenze e responsabilità di prendere le decisioni. Così il segretario del PD Enrico Letta in un incontro con la stampa estera a Roma rispondendo a una domanda sul vaccino Sputnik. A maggior ragione, dopo la complessa giornata di ieri, ha aggiunto riferendosi allo stop alla somministrazione dei vaccini a AstraZeneca, serve una politica responsabile, visto che è facile aizzare la paura. Quanto alle posizioni politiche del leader della Lega, Letta ha aggiunto, ho visto Salvini fare la virata sull'Unione Europea ed essere ora tranquillamente su quelle posizioni. È come se il Papa andasse a San Pietro e dicesse, cari fedeli, vi devo dire una cosa che è rilevante ma non cambia niente. Abbiamo scoperto che Dio non esiste, ma continuate a andare a messa. Mi è sembrato che il ragionamento di Salvini sul programma Draghi fosse la stessa cosa. L'Europa non è la causa di tutti i mali come abbiamo raccontato per anni, ma facciamo finta di niente, ha aggiunto Letta.